UTR, il stato di agitazione, le RSU degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e le Rappresentanze Sindacali, Funzione Pubblica CGL e Will Funzione Pubblica hanno proclamato lo stato di agitazione sindacale al fine di evitare il mantenimento dello status quo e di ottenere, dopo ripetuti appelli, una soluzione definitiva alle problematiche dei lavoratori, eliminando di fatto le disparità rispetto a dipendenti impiegati presso altre amministrazioni. A dare la notizia sono state le stesse RSU degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, i famosi UTR, che sono dislocati, come è noto, nei comuni del Cratere, gestiti e coordinati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, l'USRC. La decisione è stata presa al termine di un incontro tra RSU, sindacati e lavoratori, nel corso del quale sono state trattate tutte le problematiche contrattuali dei dipendenti degli uffici territoriali per la ricostruzione, anche in considerazione dell'imminente soppressione e riorganizzazione degli uffici, che di fatto non può essere attuata senza una revisione dei termini contrattuali che regolamentano i rapporti di lavoro. Sono una sessantina i lavoratori impiegati dagli UTR.